che succesi qua però no 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 ragazzi buongiorno a tutti sono influenzato raffreddore soddistrutto e ho sentito che la juve insiste per antonio conte insiste per antonio conte c'è noi dobbiamo ammiglia la champions league e va bene conte certo ovviamente non si discute è migliore di allegri parlano i numeri c'è i numeri meglio di allegri per ricostruire un progetto quello sì sono d'accordo con voi ma scusa i tifosi che vogliono la champions noi vogliamo vincere la champions e conte non è l'uomo per vincere la champions conte è l'uomo per ricostruire posso essere d'accordo con voi ma conte non è l'uomo da portare in europa che fa riprendi conte fai due tre anni per ricostruire poi lo cacci di nuovo aiuto qua ci vuole un progetto serio serio perché fin quando dobbiamo difendere gli allenatori fin quando pariamo pariamo però quando parliamo seriamente parliamo seriamente conte 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 i problemi è conte noi prendiamo conte torniamo a vincere gli scudetti e va bene poi se lì vincevamo quali gli scudetti sono scudetti che non valgono a nulla vogliamo la champions fate pace con il cervello fate pace con il cervello conte ripeto per me va benissimo va benissimo per ricostruire ma scusa l'ambizione champions league dove 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 cazzo è non dobbiamo vincere niente noi non vinceremo mai nulla non ho capito probabilmente boh fatemi sapere veramente sono senza parole con una squadra tutti i tifosi no noi dello scudetto ci siamo stancati vogliamo la champions league con conte e siete contenti che arriva conte sincero non vi capisco non vi capisco letteralmente non capisco cosa scemo io cosa scemo io non capisco gente triste perché c'è lì di gente triste che conte non vinceva in europa gente contenta che se ne va allegri contenta che ricco torna conte per vincere che cosa lo scudetto mentre noi la cosa ci manca scudetti a quantità no perché io li guardo i vostri video nei vostri video quando vincevamo scudetti mi sono rotto il cazzo degli scudetti io voglio la champions league voglio ambire la champions league ecco adesso ti piace scudette munnezza fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti vai giù ormai siamo proprio caput siamo una società allo sbaglio allenatori allo giocatori che fanno quel cazzo che voglio si capisce lo cazzo aiuto buon weekend a tutti ciao belli ciao Grazie.